Ciao a tutti, bentrovati, bentornati, sempre Sinova 2014, secondo appuntamento della maratona di sabato 28 giugno. Ringraziando nuovamente i colleghi della regia che per il secondo giorno si prestano anche allora un'infinita maratona e il DJ dell'innovazione, DJ Tigi che ci ha regalato questa piccola colonna sonora che pian pianino ci accompagna dall'inizio alla fine della giornata. Ancora strumenti per il sistema dell'innovazione, in questo caso particolare parliamo degli strumenti di social media, ne parliamo con Dino Menduni Proforma e con Rudy Bandiera, blogger giornalista, mi ha detto di dire anche qualche parolaccia ma non la dico perché poi le dice lui, spendiamo il bonus direttamente durante gli speech, parla prima Dino, poi Rudy e andiamo con una mezz'ora e 35 minuti a testa, dopo ogni intervento potete fargli direttamente le domande. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere qui, ho bisogno del slide di fronte, aspetto per vederle, in frattempo inizio a presentarmi, mi chiamo Dino Menduni, sono di Bari, lavoro in un'agenzia che si chiama Proforma, un'agenzia di comunicazione che ormai ha 18 anni, siamo conosciuti prevalentemente per la comunicazione politica, per le campagne elettorali, in quest'ultimo anno abbiamo fatto, mi cito, le due campagne più grosse, la campagna per Matteo Renzi e le primarie dell'8 dicembre, l'Italia cambia verso, la campagna del PD e le ultime elezioni europee. Non vi parlerò se non marginalmente di comunicazione politica oggi, cercherò di raccontarvi attraverso un po' di dati, una storia molto fresca, paginata ieri e portata oggi, che cosa vuol dire comunicare attraverso i social media a livello aziendale prevalentemente. Ho bisogno delle slide di fronte? Possiamo mettere le slide anche nello schermo? Sì, ci siamo, ok, perfetto. Allora, partiamo da alcuni dati che riguardano la quella che viene chiamata in gergo la dieta mediatica degli italiani, cioè quali sono le abitudini che gli italiani hanno in merito all'accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione. Vi farò vedere questi dati, vi racconterò molto rapidamente, per darvi un'idea di qual è effettivamente il peso dei social media all'interno dell'ecosistema più generale, cioè qual è il peso in Italia dell'informazione attraverso questi canali rispetto agli altri canali. E come sta cambiando in questi anni e come è cambiato in questi anni. In particolare voglio partire con un paradosso per cercare di spiegarvi che cosa è cambiato e cosa sta cambiando in questi anni. Uso come intervallo temporale cinque anni. Cinque anni in politica sono il mandato di un sindaco. Solitamente quando un sindaco si candida al primo mandato, governa per cinque anni, poi arrivato al momento della rielezione, dice sempre in cinque anni non sono riuscito a completare il mio lavoro, per questo datemi un altro mandato. È una frase che usano sempre. Quindi cinque anni per la politica sono un tempo sostanzialmente piccolo, che spesso non serve, non è sufficiente a fare tutto quello che servirebbe fare. In cinque anni invece per la comunicazione, per la comunicazione aziendale in particolare, in Italia, ma nel mondo, con i social media rappresentano un'eternità. In Italia nel 2008 avevamo 600.000 utenti su Facebook, adesso sono 25 milioni. Quindi potete immaginare come uno strumento sia cambiato profondamente per quanto riguarda le sue dinamiche. Prova appunto a sviluppare questo paradosso attraverso un esempio. Immaginate di essere un'azienda che deve entrare sul mercato con un prodotto nuovo, con una nuova tecnologia e utilizzate per comunicare un manifesto 6x3, una classica fissione stradale. La campagna è molto ben riuscita, vi convince, convince soprattutto i potenziali vostri clienti che decidono di andare a comprare il prodotto che state reclamizzando. Prima di passare al negozio dove state vendendo questo nuovo prodotto, vi recate, cioè andate su Facebook magari, aprite la vostra pagina Facebook e tra i vostri amici ce n'è uno che dice ho appena comprato il prodotto X, quello che avete visto sul manifesto, mi fa schifo. Punto. A quel punto nel vostro comportamento finale d'acquisto cosa peserà di più? Peserà l'advertising, cioè la comunicazione commerciale per come lo intendiamo classicamente? O peserà di più il comportamento singola, la singola interazione con una persona che voi ritenete in qualche modo influente. Prendete questo atomo, questa singola interazione, mettetela a sistema, cioè immaginate ogni giorno una marea di persone senza alcuna spinta esterna, giudicano, valutano, esprimono opinioni, scrivono recensioni, commentano, stroncano, valorizzano, premiano. Ogni giorno, in ogni piccolo ecosistema di relazioni, di social network, di persone che si parlano, che si scambiano processi di influenza, viene rinegoziata la reputazione di qualsiasi azienda presente in Italia o qualsiasi ente pubblico, qualsiasi politico. E questa rinegoziazione è, ripeto, uno quotidiana. E due, non è totalmente sotto il vostro controllo. Non potete cancellare i commenti negativi perché non li potete monitorare tutti. Quindi l'unico modo oggi per comunicare efficacemente a livello aziendale è passare, come cambi di paradigma, che è un cambio di paradigma che riguarda soprattutto noi comunicatori, ma che riguarda in generale il marketing, dal modello della reclame, inteso appunto come pubblicità, come advertising, a un modello nuovo che è basato sulla cosiddetta web reputation, cioè la capacità di un'azienda di generare commenti positivi in rete. I commenti positivi si generano fondamentalmente in due modi, macro modi. Uno, offrendo prodotti e servizi eccellenti. Due, curando l'assistenza post vendita. Che è un aspetto che storicamente è stato trascurato quando si parla di marketing e che oggi pesa quasi quanto la parte legata alla vendita di prodotti e servizi. Ho bisogno delle slide, ok perfetto. I dati sono scritti molto piccoli, quindi vi racconto molto rapidamente. Quello che voglio dirvi in brevissimo è che in questi anni, è successo quello che vi ho appena raccontato, negli stessi anni la televisione è aumentata, come il numero di persone che la guardano, dell'1%. Quindi l'idea che i social media siano un elemento in competizione con la televisione, una cosa che spesso avrete sentito dire, è una cretinata. La televisione cresce ed è aiutata persino ai social media nella misura in cui i social media spesso vengono utilizzati in tv per integrare le piattaforme. Pensate al festival di Sanremo. Noi guardiamo il festival di Sanremo, abbiamo Twitter davanti, commentiamo via Twitter, quindi Twitter diventa quasi una scusa per guardare il festival. Quindi internet diventa quasi un aiuto, una sorta di bastone della vecchiaia della televisione. Quindi la televisione non può essere ancora, probabilmente non potrà mai essere ignorata. La radio cresce alle 7 punti percentuali per quanto riguarda l'accesso, l'autoradio di 15 punti percentuali. Quindi per chi deve fare degli investimenti commerciali, la radio, soprattutto la radio durante i periodi cosiddetti di drive time alle 8 del mattino, quando si esce dall'ufficio, è oggi competitivo. Uno strumento che sta perdendo competitività invece è la carta stampata, sia a pagamento che gratuita. Sono andati persi un quarto dei lettori dei quotidiani dal 2007 al 2013. Questo vuol dire oggi che chi compra spazi pubblicitari deve tenere in considerazione questo aspetto. La carta stampata non è più uno strumento competitivo per comunicare. Servono altre modalità, servono soprattutto un'integrazione tra vecchi e nuovi media. Il Censys, in una ricerca collegata a quest'altra, ha identificato questa crisi dei giornali attraverso due leve. Una leva è quello che io chiamo il paradosso della Costa Concordia. Cioè le redazioni spesso si trovano per ultime a dare delle notizie che accadono. La Concordia è stata raddrizzata alle 4 del mattino, il giorno dopo in tv la Concordia era in piedi, il radio la Concordia era in piedi, su internet la Concordia era in piedi, nell'edicole la Concordia era ancora giù perché le redazioni avevano chiuso prima. Quindi questo paradosso serve a spiegarvi come i quotidiani hanno perso la loro centralità. Parallelamente a questo c'è un altro punto, cioè il fatto che il Censys ha isolato una variabile che si chiama Press Divide, che riguarda circa 7-8 milioni di persone. Queste 7-8 milioni di persone sono persone che sono state stimate dal Censys, hanno smesso di leggere dalla carta stampata o non hanno mai iniziato a farlo. Questi 8 milioni di persone possono essere divisi in due parti. 4 milioni di persone sono persone, diciamo, i cosiddetti adulti digitali, cioè persone che hanno un alto livello di scolarizzazione e che non ritengono più utili leggere i quotidiani, fondamentalmente perché ritengono che l'informazione attraverso altre forme sia competitiva. Ma c'è una quota e 4 milioni di italiani, i cosiddetti nativi digitali, che sono cresciuti in un ecosistema già digitale, che non trovano alcun vantaggio competitivo nel leggere la notizia della carta stampata. Questo dato va incrociato con un altro dato, che è un dato di marketing. E che vuol dire, questo dato ci dice con forza una cosa, qualsiasi azienda ha belleità di comunicare a un pubblico di massa, cioè generalista, senza alcuna distinzione o senza alcuna possibilità di ridurre annicchie, ha la necessità di diversificare la propria strategia di comunicazione, perché il comportamento delle cosiddette generazioni pre-digitali, cioè persone che hanno più di 60 anni, di accesso in media, è completamente staccato dal comportamento delle generazioni neo-digitali. Faccio un esempio, se io devo vendere del latte e voglio comunicare indistintamente agli anziani e ai giovani, se io spendo tutti i miei soldi sui mezzi tradizionali, saprò che c'è circa un 20% di persone, i nativi digitali, a cui non arriverò, a prescindere da quanto sarà buona la mia comunicazione, perché quelle persone semplicemente hanno abbandonato quei mezzi, ma vale anche il contrario, quindi è ancora presto per dire spostiamoci tutti online, perché se io mettessi tutti i miei soldi sul web, ci sarebbe un 20-25% di pre-digitali che non vanno semplicemente sul web, e quindi oggi le campagne unisex, cioè quelle che vanno bene per un'azione per tutti, non si possono fare più. C'è bisogno a monte di una diversificazione di canali, di mezzi e di messaggi. Torno alle slide. Andiamo avanti. I dati sono piccoli, quindi ve li sto raccontando. In questa tabella vengono chiesti gli italiani, lì che cosa fa attraverso internet, quali sono le attività che lei fa. Al primo posto c'è cercare informazioni su aziende, prodotti o servizi. Quindi il comportamento degli italiani nei confronti dell'internet è un comportamento che ci riguarda in prima persona, cercano informazioni e se non gliele diamo noi le troveranno altrove. E questo altrove non è detto che sia autorevole come noi, affidabile come noi, verificabile come noi, si parlerà di noi comunque sia, sia che noi ne abbiamo voglia, sia che noi non abbiamo voglia. Quindi il punto non è più decidere se stare o non stare, ma decidere come stare o se giocare o se subire la partita. Andiamo avanti. Questo riguarda la dieta mediatica per quanto riguarda l'accesso all'informazione. Prima abbiamo detto l'accesso ai canali in generale. Qui c'è una declinazione specifica, quindi l'utilizzo degli strumenti per informarsi. E qui c'è un dato storico, che è un dato che questo dato era fermo a ottobre del 2013. E' ragionevole pensare che questo dato debba essere aggiornato nella prossima ricerca di ottobre. Nel 2011 la quota di italiani che leggevano informazioni nella carta stampata era al 47%, la quota di italiani che leggevano informazioni su Facebook era al 28%, quindi c'era una forbice di 19 punti. Solo due anni dopo, nella ricerca del 2013, la forbice si era ridotta a un punto percentuale. I giornali avevano perso 9 punti, i social hanno guadagnato 10 punti. La forbice si è ridotta a un punto a ottobre, quindi oggi siamo in un momento storico in cui sostanzialmente questo sorpasso è già avvenuto. La quota di italiani che si informa attraverso Facebook è superiore alla quota di italiani che si informa attraverso la carta stampata. Ancora una volta non è più una questione di decidere se stare o non stare, ma decidere come stare e se stare con un atteggiamento proattivo, aggressivo, efficace, scientifico, oppure subire quello che ci succede attorno. Un altro aspetto importante riguarda il peso di Facebook rispetto a Twitter. I giornali amano Twitter, i giornalisti amano Twitter perché ci stanno, in Italia le masse critiche però non sono su Twitter, ma sono su Facebook. Ci sono 25 milioni circa di utenti su Facebook, 3 milioni e mezzo di utenti su Twitter. Quindi questi sono i numeri. Gli italiani hanno preso una decisione, è una decisione che sembrerebbe stabile. Questo non vuol dire che non bisogna usare Twitter, ma vuol dire che probabilmente i due strumenti hanno due scopi diversi. Facebook serve a disintermediare, come si dice in gergo, cioè a parlare direttamente con i nostri consumatori senza l'ausilio della mediazione dei giornali o di agenti intermedi. Twitter invece è un luogo che serve alle aziende e ai mittenti per farsi vedere dei media affinché i media poi parlino di te. Diventa una sorta di sostitutivo dei comunicati stampa in forma più moderna e più evoluta. Chiudo questa prima parte con questa slide. Qui viene chiesto agli italiani, lei nei 60 giorni dopo l'acquisto di un prodotto o un servizio ha interrogato un'azienda, cioè ha cercato l'azienda per fare delle domande, per chiedere qualsiasi cosa? Un italiano su tre ha risposto sì, io ho cercato l'azienda nei 60 giorni dopo l'acquisto di un prodotto o un servizio. Ma l'aspetto più clamoroso di questo dato riguarda il fatto che lo strumento digitale più utilizzato è stato il sito web, come classicamente accade. Quello davvero importante è che la pagina Facebook dell'azienda è stata consultata più rispetto ai call center telefonici. Questo dato è Italia, ottobre 2013. Non sto parlando di un modello futuro o di prospettive, sto parlando di quello che in Italia già accade, fate mente locale, pensate a 50 aziende, 10 aziende che conoscete e pensate di queste 10 aziende quante hanno un call center telefonico e quante hanno una pagina Facebook o quante rispondono dal telefono e quante hanno invece una presenza scientifica su Facebook. Secondo me 9 su 10 hanno un orientamento sui call center, 1 su 10 hanno un orientamento sui social. Sappiate che gli italiani già oggi hanno un approccio diverso. Quindi il cambio di paradigma, non ripeto una mia valutazione legata al fatto che faccio questo lavoro, è un dato, diciamo, di un quantitativo riguardante i comportamenti di navigazione degli italiani. Andiamo alla parte più pratica, negativa alle 10 regole, le dico proprio a spot. Ho dimenticato di dire che tutto quello che vi sto facendo vedere è disponibile gratuitamente, sia per la consultazione che per il download sul mio canale slideshare, slideshare.net. e quindi potete andare poi a pescare, a farmi domande, poi dopo magari vi faccio vedere i contatti. Andiamo, ripeto, velocemente, e vi faccio 10 spot, 10 idee per usare i social. Tu sei un utente come tutti gli altri anche quando non è vero. Le aspettative sociali degli utenti sui social sono orientate alla parità. Se io scrivo una domanda a un mio amico sulla sua baccheca di Facebook, mi aspetto che il mio amico mi risponda. Questo è il modello relazionale. Se io sono un ente pubblico, una multinazionale, una grande azienda, e utilizzo quel canale, devo accettare questa regola. Altrimenti, se io penso di portare la mia gerarchia esterna dentro, vuol dire che è come se io cerco di utilizzare la radio per mandare video. Cioè, è una cosa proprio sbagliata dal punto di vista proprio semiologico, semantico, per così dire. Avanti. Un punto, la domanda a cui tutti i social media manager devono saper rispondere è perché un utente in mezzo a tutto quello che arriva dovrebbe seguire proprio me? C'è una grandissima offerta di informazione. La risposta a questa domanda è perché sulla mia pagina, sui miei canali, trovo informazioni che non può trovare da nessun'altra parte. Quindi esclusive e anteprime, lo vedremo dopo nella piccola chiesistoria che vi ho portato, sono il vero drive, il vero elemento competitivo di una buona comunicazione sui social media. Io ho seguito l'anno scorso Daniele Silvestri al festival di Sanremo, durante il festival. Questa foto è più recente ed è stato il contenuto che ha avuto il maggior numero di interazioni sui social dalla sua pagina ed è un contenuto in cui si vede Daniele Silvestri che in qualche modo comunica di essere in attesa. Questo tipo di elemento che viene dato da lui prima di tutti gli altri ha interessato il suo pubblico molto più di altri contenuti che potevano essere individuati altrove. Quindi esclusive e anteprime valgono molto più della capacità tecnica nella gestione di una pagina. Uno dei punti più controversi che riguardano soprattutto le aziende o gli enti pubblici riguarda il comportamento nei confronti di quei commenti che a noi non piacciono proprio. Ci sono tante strategie possibili. Io propongo questa strategia tra virgolette intermedia. Ho un'azienda al diritto di controllare, bannare, moderare i commenti. Importantissimo però è che questa strategia sia una strategia trasparente. Cioè qualsiasi cosa faccia, l'utente con cui io interagisco non si deve mai sentire vittima di una discriminazione. Nel fatto che io voglio cancellare proprio lui perché mi sta antipatico o proprio lui perché ho paura di quel commento. Qualsiasi sia la policy, la policy deve essere esplicitata e deve essere esplicitata prima secondo me. Il comune di Milano sulla sua pagina Facebook ha un documento, due pagine in pdf in cui ti dice che cosa fa dei commenti, a che ora dicevano la risposta, quando non dicevano le risposte, che cosa si fa dei commenti che vanno off topic e così via. L'utente quindi quando clicca mi piace sulla pagina sa perfettamente cosa sta per succedere ai suoi commenti. Non c'è la possibilità di dire io sono vittima di una discriminazione. Quindi qualora decidiate di adottare una strategia di questo tipo, quindi di moderazione dei contenuti, il modo migliore per farlo è dichiarare a monte quali sono le regole del gioco. E come se state dicendo, questa è casa mia, queste sono le mie regole, se ti va bene clicchi mi piace, altrimenti lascia stare. Punto numero quattro. Dicevo prima, se non rispondi tu lo faranno gli altri. Come vi dicevo prima, non contesti per competitivo, se c'è un mio competitor mi aggredisce e quindi se io non sono presente lo farà qualcun altro. C'è stato un dibattito, una querelle social tra Smart e Citroen, tre giorni fa se non ricordo male, dove sostanzialmente Citroen C1 faceva una pubblicità su Facebook in cui diceva che con questa macchina ci metterai meno a trovare parcheggio e l'account Smart e Social in Italia ha risposto con noi ci metteresti ancora di meno. E c'è stato un dibattito, un battibecco sul fatto che poi Citroen gli ha risposto ma nella macchina tua ci vanno solamente in due e poi Citroen gli ha risposto ma qui invece ci andiamo in cinque però tre vanno a sedersi per prendere notare il posto all'aperitivo, tu cerchi posto ed è stato un dibattito che è andato in questa maniera. Quindi questo è la comunicazione online e bisogna anche essere attrezzati a questo punto di vista. La comunicazione online è come la comunicazione di tutti i giorni, bisogna evitare di essere sia monotoni che monotoni, cioè che cosa vuol dire una pratica? Vuol dire evitare di scrivere sempre e solo testi scritti, sempre e solo foto, sempre e solo video, sempre e solo link o parlare sempre e solo dei propri prodotti o sempre e solo dei propri servizi. Quindi la monotonia è un elemento che va assolutamente evitato, ripeto, come la modulazione della voce durante un dialogo o come quando io dico parlo sempre del mio lavoro, delle cose mie, è chiaro che l'altra parte l'interlocutore si annoierà. Meglio non comunicare che comunicare male, proprio perché siamo passati dalla stagione, dalla reclama, alla stagione della web reputation, siamo passati anche dalla stagione della comunicazione muscolare, per cui è importante esserci, esserci sempre, riempire la città di manifesti, a una modalità in cui ogni azione di comunicazione ha un impatto in termini di feedback e quindi è meglio fare poche cose bene che molte cose male. Ricicla i contenuti nei mezzi tradizionali, i social media sono come i maiali, non si butta via nulla, soprattutto per aziende che hanno una forte esposizione mediatica e quindi sono presenti in televisione o sono presenti sui giornali. Un modo per animare una pagina, un canale social è prendere i contenuti, ad esempio di rassegna stampa, metterli in ordine, commentarli e pubblicarli. Non aprire troppi canali social se non sai come gestirli. In Italia siamo un po' affezionati alle mode del momento, ci siamo innamorati di MySpace ai suoi tempi che poi è stato abbandonato completamente, poi ci siamo innamorati di altri strumenti, poi ci sono strumenti che vengono utilizzati, poi vengono abbandonati o comunque superano la loro popolarità per un momento, poi nasce un nuovo social. Quando noi abbiamo delle responsabilità appunto di aprire dei canali istituzionali, non dobbiamo dimenticarci che sono prima di tutto canali istituzionali. Quindi se io apro otto canali sui social, Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Instagram, Pinterest e compagnia bella, ma a un certo punto non riesco ad aggiornarli tutti perché non ho risorse umane, non ho risorse economiche e lascio quindi un canale non curato, è come se io fossi il titolare di un negozio di abbigliamento che ha un buco nel vetro. Cioè io sto comunicando che la mia comunicazione è sciatta perché io non riesco a starci manco dietro. E questo ovviamente per un'azienda che ha orientamento al mercato è uno degli errori più clamorosi e quindi più imperdonabili che si possono fare. Andiamo avanti. Facebook ogni tanto cambia l'algoritmo che rende un contenuto popolare. L'attuale algoritmo premia i contenuti più interattivi, cioè quelli che riescono a generare il maggior numero di mi piace, di commenti, condivisioni. Quindi nella produzione del contenuto c'è questo tipo di aspetto da tenere in considerazione. E ancora, se qualche mese fa l'aspetto cronologico è importante, quindi l'ultimo contenuto in ordine di tempo, oggi nelle ostre home di Facebook appaiono contenuti caricati anche qualche giorno prima, ma che però generano una discussione o un dibattito. Quindi ancora una volta è meglio comunicare poco bene con contenuti efficaci che tentare di riempire il feed di Facebook con contenuti nuovi. Non è più questo il paradigma efficace. Punto numero 10. Una volta che hai iniziato non puoi più fermarti senza danni. L'80% dei politici che aprono la pagina Facebook e perdono le elezioni smettono di aggiornare quella pagina. Poi vediamo la fiducia dei politici. 5% nei partiti, 7% per il Parlamento. Fate uno più uno e capite un po' che cosa succede. Voglio chiudere la mia parte parlandovi di una chiesi storia freschissima e parlandovi soprattutto di colui il quale secondo me ha interpretato al meglio il mio principale lavoro. Questo ragazzo si chiama Daniele Sciaudone ed è un centrocampista del Bari, la squadra di calcio della mia città. Come è possibile un calciatore sia il più bravo social media manager d'Italia? Per chi non lo conosce vi racconterò in questi otto minuti che mi rimangono la storia di questo ragazzo. Partendo un attimo da lontano, la squadra della mia città due anni fa, nella squadra della mia città due anni fa è successa forse il più grosso sfregio sportivo che ci possa essere. Il capitano della squadra vende il derby in un scandalo calcio scommesso. Il Bari era già retrocesso in Serie B e Andrea Masiello, che Puffo è arrestato, autore di un autogol, come vedete da questa immagine, si è scoperto che ha venduto la sua partita per 300.000 euro a Lecce, dell'intermediale del Lecce. Il Lecce fu retrocesso in Serie B, il Bari patteggiò cinque punti di penalizzazione. Quindi, diciamo, ferita al cuore dei tifosi. Siamo all'anno zero della tifoseria. Si parte da qui e arriviamo al 2014. Il 10 marzo del 2014 il Bari è fallito, da un punto di vista economico. La precedente gestione della famiglia Matarrese, che era la famiglia più longeva nella storia del calcio italiano, dopo 37 anni manda i libri in tribunale. Il Bari si trova praticamente a un passo dalla Serie C, senza una dirigenza, senza prospettive, senza acquirenti alle porte. Parte, quindi, viene convocato un'asta per la vendita del titolo sportivo, quindi per evitare che il Bari finisca sostanzialmente nei dilettanti. E, a quel momento in poi, Bari risponde a questo cambio di fase, invece che con la depressione cosmica, come se fossero stati liberati da un incubo. Perché il rapporto tra i tifosi e la società erano ai minimi storici. Via Matarrese, succede un miracolo sportivo da tutti i punti di vista. Fino a quel momento, la media degli spettatori delle partite in casa del Bari era di 2.000 paganti. La prima partita, senza Matarrese, 15.722 spettatori allo stadio. Andiamo avanti, vi faccio vedere la timeline vista dall'esterno, e poi vi faccio vedere la timeline vista dall'interno, cioè la vista da Schaudone. Il 29 marzo succede questa partita, che in qualche modo rappresenta uno snodo cruciale sportivo. Il Bari vince la Trapani 4-3, dopo 12 minuti perdeva 2-0, fa 4 gol in 30 minuti, vedo sulla mia baccheca Facebook una specie di... cioè come se fosse successo se avessimo vinto i mondiali. Quindi c'è stata una specie di rivoluzione. Nel frattempo però, la storia calcistica, che comincia a cambiare verso, come si dice in questo gergo, c'è la storia fallimentale, la storia economica. Prima asta, per la maniera del titolo sportivo, deserta. Nel frattempo il Bari continua a risalire in classifica, il 12 marzo, seconda asta, ancora una volta deserta. Il Bari continua a crescere, siamo in zona playoff, e succede poi quello che forse alcuni di voi hanno percepito, insomma. A un certo punto da Bari parte questa campagna virale, con l'hashtag compratela Bari, che era rivolta appunto, in qualche modo, dagli stakeholders nazionali e internazionali, affinché salvassero la società. Partecipano a questa campagna anche personaggi famosi, Fiorello, Rocco Siffredi, Checozzaro, non tifosi del Bari. A terza asta, finalmente, non va a deserta. Il Bari è stato acquistato da una cordata, credo, di imprenditori russi, nel senso che non è ancora chiarissimo quanti imprenditori ci siano, da Gianluca Paparesta. Il 30 maggio il Bari, che due mesi e mezzo prima era a due punti dalla Serie C, entra in zona playoff, dopo aver vinto praticamente quasi tutte le partite in quei due mesi e mezzo. Fa il massimo assoluto di spettatori nel campionato, nella stagione in corso, 2013-2014, 48.444 paganti. Il Bari, a settembre del 2013, aveva fatto anche il record minimo di paganti, 936 in Bari-Modena. Quindi potete capire che cosa è successo in città. Il Bari vince poi il primo spareggio, il 3 giugno, e poi viene eliminato dal Latina in semifinale, e poi viene il Cesena in Serie A. Questa è la storia vista dall'esterno. Adesso vi racconto la storia vista dall'interno, cioè raccontata dalla pagina Facebook di questo ragazzo, un centrocampista di Bergamo, che ha giocato da due anni a Bari, che, nello stesso intervallo che vi ho appena raccontato, conosce un aumento del fan della sua pagina a 3.000-27.000. Che cosa ha fatto di così miracoloso Daniele Schaudone, diventato anche il miglior social media, è stato premiato da Alconi come il miglior social media manager sportivo in Italia, ha fatto questo. Qui ho isolato i contenuti più rilevanti. Il primo aggiornamento di Stato dopo il fallimento societario è voglio l'inferno sugli spalti. 500 mi piace, Bari è venuto 1-0, 15.000 spettatori. Foto alla curva, Bari merita rispetto. I tifosi capiscono che lui ha aggiornato la pagina e cominciano a seguirlo. 3.000, 4.000, 5.000 fan. Ringrazia, più 25% in 13 giorni. E poi nasce questa moda che è diventata un tormentone. Cioè i selfie nello spogliatoio con il cartellone delle istituzioni con il risultato esatto. Trappani e Bari è stato uno spartiacque sportivo molto forte e loro a caldo, un'ora dopo, forse anche meno di un'ora dopo, alla fine della partita pubblicano attraverso Schaudone questa foto. Poi la dirigenza del Bari, c'è stata una specie di vacazio. Non avevamo il presidente ma i responsabili marketing continuavano a lavorare. E quindi loro hanno, sfruttando quest'onda, collaborato con Daniele Schaudone, hanno realizzato un video, la versione di Eppi di fare Williams, ha declinato lo stadio, con quindi la campagna Eppi si avviene allo stadio per portare la gente allo stadio. Schaudone aggiorna la sua immagine di copertina mettendo un tipo di festeggiamento tipico del Bari, quando il Bari vinceva le partite a San Silo, cioè il trenino, cioè questo modo di festeggiare a Cucciati. Si continua con gli aggiornamenti. Qui c'è una sconfitta, forse l'unica sconfitta di questo periodo, la Latina, in cui dice non ho la forza di caricare le foto questa volta perché sono troppo incazzati, i nostri occhi sono troppo incazzati. Poi addirittura un selfie in aereo, in dialetto, un ragazzo di Bergamo che scrive in dialetto, stiamo arrivando, continua la crescita, 8 maggio, il giorno del Santo Patrono, festa patronale San Nicola, lo stadio di Bari si chiama Stadio San Nicola, Schaudone si fa la selfie con la focaccia barese, è uno dei piatti tipici della nostra città. E così, sostanzialmente, si vede poco, ma con la crescita dei mi piace, delle condivisioni progressivamente, e fra il tempo la squadra continua a crescere. Il 12 maggio, come vi dicevo, la seconda asta va deserta, e la squadra del Bari, che in ritiro a Carpi, pubblica una foto loro stesse con un cartello, dicendo comprateci, veniteci a salvare fondamentalmente. Da lì poi si è generato quel meccanismo che vi avevo parlato prima, del comprate la Bari. Il capitano del Bari, squalificato per quella partita, da Bari, manda la foto a Schaudone, lui col cane, con un cartone, foto di cartone sotto il bidone, e comprateci. Qui purtroppo c'è un video, poi andate a vedervlo, perché questo secondo me è il vero snodo comunicativo. Qui siamo a Carpi, il Bari ha appena vinto la settima partita fuori casa di seguito, due mesi dopo essere fallito. Sono in pull, ma stanno tornando in albergo, si fanno un video con un grave, scurissimo, buissimo, cioè tutti i social media e i manager di tutto il mondo avrebbero detto non pubblicate, per fortuna ci sono le storie che sono le più importanti della tecnica, pubblicano questo video in cui cantano un coro del Bari che è stato realizzato quest'anno, che è diventato, cioè la gente adesso lo canta per strada per intenderci, in cui dicono ci vediamo domani in stazione alle 3 e cantano questo coro. Il giorno dopo, Shoudone con tutta la squadra torna a Bari, Cari va, scende dal treno, si nasconde tra i tifosi e comincia a cantare con i tifosi, facendo questo video, questo è un fotogramma nel video, insieme ai tifosi. Quindi potete immaginare sulla pagina Facebook di Shoudone in quel momento cosa può essere successo. C'è una perfetta identificazione tra squadra e tifosi. Che cozzalone dice comprate il capurso e in omaggio vi diamo la Bari. La Serie A team sul proprio canale dice senza proprietà e senza stipendio hanno messo in campo l'orgoglio di un'intera città, quindi la storia diventa nazionale fondamentalmente, da una piccola storia di città in due mesi diventa una storia nazionale. Qui c'è la foto del raggiungimento del playoff, record assoluto per la Serie B, come dicevo, la prima del fallimento, prima di marzo, la media tifosi era 2.000, Bari-Novara, 48.744 paganti, capite? Diciamo l'ordine di grandezza. Foto a Crotone, ancora una volta, scritto in italiano, cioè un imperfetto per usare un femmismo, ma ovviamente è la botta calda che fa la differenza. Qui è il suo aggiornamento di stato quando il Bari viene eliminato da Latina. È uno smiling con una lacrima. Fine all'aggiornamento. 4.000 mi piace, commenti, ragazzi andate bene, cioè i commenti sono romantici quasi, bravissimi, fatta niente, siete stati bravissimi, eccetera, eccetera. Ultima foto di squadra, festa finale, come se avessimo vinto lo scudetto, migliaia di persone per strada, pullman con i tifosi, con i giocatori sopra, Schaudone conduce alla festa, ormai è diventato una specie di intrattenitore, di simbo, di capitano digitale, lo chiamo io, e conduce appunto questa festa di piazza. Per chiudere, che cosa ci insegna questa storia per la comunicazione aziendale? Perché vi ho parlato di calcio qui a un evento che riguarda l'innovazione, la comunicazione delle imprese innovative? Per cinque motivi. Perché, prima di tutto, la comunicazione di un'azienda è più credibile se fatta dai dipendenti. Proprio per il ragionamento che dicevo prima sulla web reputation. Se un'azienda, se i dipendenti sono contenti, sono motivati e parlano bene alla loro azienda, in un meccanismo in cui la reputazione digitale conta sempre di più della comunicazione commerciale, quella leva, diventa cruciale. Schaudone genera una sorta di circolo, cioè i risultati sportivi chiaramente sono dipesi da un cambio profondo della fase, i calciatori erano sempre gli stessi, negheri erano prima dei brocchi e poi dei fenomeni. E' cambiata la fase, si è creato entusiasmo, l'entusiasmo ha portato l'agente allo stadio, l'agente allo stadio in qualche modo ha motivato Schaudone a condividere i contenuti in quella maniera, quella condivisione ha ritorialmente motivato i tifosi. Quindi è stato un circolo virtuoso in cui la comunicazione dei dipendenti, perché di Schaudone è un dipendente di una società fallita peraltro, ha generato questo tipo di meccanismo. Punto numero due, meglio una buona storia che un buon social media manager. Io da tecnico dico diffidate degli ipertecnicismi, cioè non è importante che sia scritto in italiano perfetto o che sia la foto a 12 megapixel o che il video sia realizzato con i migliori videomaker del mondo. In questa storia ci sono video grezzi, foto fatte sfocate, test scritti in italiano imperfetto, ma sono fatti in diretta quando le cose sono successe cogliendo la botta emotiva. Quindi se abbiamo una storia da raccontare e i tempi giusti per farlo, questo conta molto di più di tutti i giornamenti teorici o tecnici che potete ascoltare. Punto numero tre, la comunicazione funziona se parla il linguaggio dei destinatari più che quello dei mittenti. Schaudone parla come se fosse un tifoso e questa è la chiave di volta. Parla come se fosse un tifoso e parla a persone che capiscono perfettamente qual è lo suo stato d'animo. L'empatia in questo caso è la vera chiave di volta. Non è necessario essere difficili per essere ufficiali, questa è una malattia soprattutto delle pubbliche amministrazioni che le deve dover parlare per forza in tecnichese per darsi un tono di serietà. Come dicevo prima, i dati di fiducia l'obiettivo è fallito da questo punto di vista è molto più importante comunicare in modo empatico e uguale a chi ci ascolta. Punto numero quattro, pop è bello ma solo se è vero. Cioè se lì ci fosse stato lo staff e non lui i risultati sarebbero stati più minori, inferiori. Il fatto che ci fosse lui, davvero lui, con tutti i suoi errori, con tutte le sue imperfezioni era la vera chiave di volta. Punto numero cinque, anche se non abbiamo l'happy ending questo non vuol dire che non si debba provare. Perché come avete visto il Bari non è andato in Serie A, il miracolo si è fermato un passo prima dell'arrivo, ma l'accoglienza dei tifosi e soprattutto i risultati tecnici di quella pagina, ricordo, 3.000 like a marzo, 27.000 like a giugno, 0 euro investiti di advertising, dimostrano come, appunto, la storia se è a lieto fine è tanto di guadagnato, ma se non lo è e le cose vengono fatte con tutti i crismi, la comunicazione comunque in termini di risposta, in termini di reputazione vi premierà. Qui la scheda dice che il Bari alla fine partiti a marzo con 2.000 paganti ha avuto il più alto tasso medio di spettatori, quindi con le ultime sette partite in casa hanno recuperato tutto il ritardo e il Bari alla fine è risultato la società di calcio che ha portato più gente allo stadio in Serie B nella stagione 2013-2014. Siaudone, in questo caso la comunicazione di una storia sportiva ha contribuito a dare un risultato economico perché sono biglietti venduti tangibile, quantitativo e incontestabile. Grazie. Dino Minduri Rimani, rimani Dino, rimani. Abbiamo domande? Aspetta che c'è Pierino qua che... No, tu ce l'hai il microfono, questo tienilo, questo te lo prendo e lo do Il microfono, Paolo? Pronto? Parlo, porto la voce, non c'è problema. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto ieri al seminario sulla reputazione online che abbiamo visto ieri. Allora, la prima domanda è visto che ci stiamo spostando sempre di più da un'informazione offline dove c'erano delle testate che avevano una reputazione solida, storica, determinata, predefinita, centenari addirittura in alcuni casi a una cosa che si chiama Facebook dove l'informazione è parcializzata. Come posso essere sicuro che l'informazione sia corretta, verificata, ragionevole e quali sono gli strumenti per farlo, insomma, quali sono gli strumenti per verificare questa cosa qua e l'altra cosa, l'hai accennato però, insomma, secondo me mondo reale e mondo virtuale sono due facce della stessa medaglia e quindi come possiamo andare a far intersecare questi due mondi in modo da costruire una comunicazione che sia più efficace sia nell'online che nell'offline. Allora, la prima domanda ha in realtà un dato da cui dobbiamo partire per la riflessione che è un dato dell'Ox del 2012 che dice che l'Italia ha il più alto livello di analfabetismo funzionale in tutti i paesi dell'area Ox. Il 47% degli italiani sa leggere ma è incapace di farvi il riassunto di quello che ha appena letto. Il 10% degli italiani leggi i bugiardini del farmaci prescritti dal loro medico e leggono e non sanno che cosa vuol dire quello che c'è scritto sopra. Perché faccio questa premessa? Perché questa premessa quindi la difficoltà di interpretare una notizia vera da una falsa va ad incrociarsi con un altro dei punti che non è ancora risolti perché Facebook come dicevi tu è uno strumento nuovo cioè quello di quali sono le fonti davvero autorevoli. Penso che questo tipo di lavoro è un lavoro che richieda una negoziazione che ha ancora bisogno di tempo che permetta alle persone di capire quando la fonte è attendibile e quando la fonte non è attendibile. Aggiungo una cosa è un tipo di problema tra virgolette che riguarda anche ciascuno di noi ciascuno anche dei presenti. Faccio un esempio concreto se io ho mille amici su Facebook pubblico quattro bufale consecutive cioè quattro notizie che si rivelano false la mia capacità di essere in qualche modo rilevante per le persone che mi stanno attorno decade fino a diventare nulla. Quindi questo tema è un tema della tenibilità che riguarda non solamente le fonti tradizionali dell'informazione ma riguarda anche il comportamento individuale di ciascuno di noi. Questo vuol dire che paradossalmente in questo momento per informare dobbiamo fare noi fact checking di noi stessi tutte le volte tutti i giorni costantemente. Non è una questione che si può risolvere in un giorno o con la tecnicalità. Sono strumenti nuovi come nessuno di noi probabilmente sa immaginare dove sarà Facebook fra cinque anni mentre appunto cinque anni come dicevo prima nella storia sono un tempo inesistente nella comunicazione attuale sono un tempo infinito quindi non potendo immaginare cosa succederà fra cinque anni è molto difficile ipotizzare dei modelli sicuramente validi per tutti. Quello che vi posso dire è che la sfida della reputazione non riguarda solamente le aziende le imprese gli enti pubblici ma riguarda il comportamento individuale di ciascuno di noi che appunto se costruiamo un bagaglio di reputazione positiva poi diventiamo credibili quando facciamo di girare delle notizie che magari appunto noi teniamo che siano conosciute e condivise. L'altra domanda è come si crea il circolo il circolo si crea appunto cercando di non separare i piani ma cercando di ragionare sempre in ottica cooperativa la divisione online offline è una divisione che dieci anni fa poteva avere un senso dal punto di vista teorico adesso non ha alcun senso così come non ha alcun senso espressioni come il popolo della rete che non vuol dire nulla perché non è che esiste un popolo antropologicamente separato dagli altri soprattutto se ci sono 25 milioni di persone in Italia evidentemente non esiste un popolo della rete c'è la necessità di creare questo continuo processo di circolo tra online offline e online ad esempio cosa vuol dire vuol dire che se io sono io sono una persona che deve andare in televisione o che deve fare un comizio diciamo o che deve parlare in pubblico in assemblea o che deve parlare a sinnova va online mette il link dello streaming guardatemi come sto facendo io poi magari qualcuno tra i commenti mi scriverà hai detto una cretinata ecco la dimensione che quindi sono partito online sono uscito offline perché sto parlando qui fisicamente rientro online poi se voglio scrivere torno offline poi magari incontrerò qualcuno di voi in un incontro successivo noi continueremo a parlare quindi l'unico modo è giocare costantemente rispondo tra i due mondi senza separarli non è difficile le social network accorciano moltissimo questa distanza l'importante è essere metodici cioè non dimenticarsi mai che questo circolo va coltivato ogni giorno attraverso questo tipo di cura quotidiana ancora domande adesso microfono qua 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 sì la mia domanda è questa molte aziende stanno accusando Facebook di aver cambiato ulteriormente l'algoritmo e quindi i loro contenuti sono sempre più invisibili quindi quello che volevo sapere è questo secondo te una buona comunicazione può ovviare appunto a questo problema o per forza un'azienda deve investire sempre di più in pubblicità appunto con Facebook o può fare soprattutto nel caso di una piccola azienda può farne anche a meno se ha una buona comunicazione può anche non investire appunto in pubblicità e quello gli basta allora domande complesse va spezzettata è vero quello che dicono sul fatto che Facebook soprattutto per quanto riguarda le pagine pubbliche ha ridotto di molto la portata dei contenuti ovviamente con scopi commerciali cioè cerca di indurti a fare a investire del denaro per delle sponsorizzazioni per aumentare la visibilità di quei contenuti la ora io penso che la stragrande maggioranza delle aziende una valutazione di investire dei soldi su Facebook la deve fare però la storia che abbiamo appena visto chiaramente è calcio quindi è un argomento molto mainstream in un momento di grande esposizione dimostra che quando ci sono delle contingenze favorevoli l'investimento pubblicitario non è obbligatorio certo è in questo momento è largamente consigliato sul stare o meno sui social io ripeto io lavoro prevalentemente sui social media ma non mi sognerei mai dire stare sui social media è obbligatorio perché se non c'è rispetto di tutte quelle condizioni io sto utilizzando quello spazio per fare comunicazione di me stesso comunicazione istituzionale però se lo faccio male sto dicendo sostanzialmente io sono sciatto io non vale la pena di starmi a guardare quindi per farla quindi ancora una volta meglio non comunicare che comunicare male poi dipende anche da che cosa stai vendendo e a chi cioè se io sono un'azienda che fa business to business probabilmente Facebook non è lo strumento più ideale per me o se sono un'azienda che vende turbine o faccio una comunicazione stradinicchia Facebook mi può servire forse per fare un lavoro sul brand ma non per direttamente un orientamento al mercato quindi la regola generale è molto difficile da dire dipende moltissimo dalla natura del tuo pubblico potenziale più un prodotto un servizio di massa più ha senso stare dove le masse interagiscono domande giustamente tu prima hai fatto un passaggio su come le pagine social più sono usate direttamente dalla persona interessata e più hanno un'efficacia la fortuna credo anche della storia che ci hai raccontato è forse che questo ragazzo aveva dimestichezza anche nell'utilizzarlo bene e male però aveva anche voglia di pubblicare cioè aveva tempo di passare sui social la mia domanda è quando tu invece lo fai per un prodotto che può essere un personaggio politico noi seguiamo periodicamente magari la pagina di uno come il premier Renzi che è uno che alle 6 del mattino dalla finestra posta una foto e ha voglia di pubblicarla chi invece non ha come dire quell'interesse o dimestichezza e quindi è seguito da uno staff com'è che riesce a trovare l'efficacia anche in quello che deve pubblicare rispetto al ruolo che appunto ha o comunque alle immagini che deve dare o le notizie che poi deve anche come dire far conoscere alla platea ho premesso che come dicevamo il fatto che sia il politico in caso specifico cioè tra tutti i settori di comunicazione quella politica è quella in cui la differenza tra sono veramente io e uno staff è la differenza in cui è maggiore c'è molta più attesa rispetto a una comunicazione aziendale che dietro ci sia il politico in prima persona per un motivo legato alla fiducia alla rappresentanza eccetera eccetera quindi il fatto che Renzi twitte le 6 di mattina ha tutta una serie di motivazioni strategiche ma poi in termini concreti porta al risultato che Renzi è il premier dell'Unione Europea che ha il maggior numero di follower su Twitter perché gli italiani hanno capito che lui ed è lui al 99,9% a twittare compresi i tweet alle 6 di mattina e quindi la risposta in termini quantitativi è una risposta immediata come può fare uno staff a comunicare efficacemente quando il politico non risponde in prima persona sostanzialmente quel decalogo che io ho elencato dà la risposta a molte delle tue domande cioè se io fossi un politico oggi sempre di più è un rituale che fatica a venire meno perché ho visto tante volte notizie dati in esclusiva a Repubblica o al Corriere della Sera o alla stampa per motivi legati alle relazioni tra il politico e il giornale dal punto di vista tecnico oggi se io fossi un politico il 99,9% delle anteprime le darei attraverso i miei canali Obama nel 2008 comunicò il nome del vicepresidente Joe Biden quindi una delle tre o quattro scelte più importanti in assoluto durante la campagna elettorale mandando un sms alla newsletter delle persone del suo sito che siano iscritte al servizio sms ovviamente cosa succede? succede che chi è iscritto a quel servizio e chi in generale segue Obama diventa consapevole del fatto che fa parte in qualche modo di un anicchio di persone che ha le informazioni prima degli altri ma dal punto di vista della comunicazione tradizionale non ha perso nulla perché tanto un secondo dopo la notizia verrà comunque resa pubblica quindi secondo me questo tipo di emancipazione dai media tradizionali nella relazione è una delle strategie più efficaci per arrivare tanto comunque i giornali sempre di più devono parlare di quello che fa online quindi bisogna solo avere il coraggio di fare il passaggio in più il passaggio successivo solo una nota mia non ti sembra che in questo periodo oramai da un po' anche su quelli che hanno tanti follower quelli che hanno una buona reputation comunque si stia andando tanto in overshooting cioè che si comunichi anche per quelli che dicono cose sensate troppo sì cioè c'è un overdose sì su tutti i canali sì secondo me sì Dino Mendoni te lo puoi tenere slide te la faccio io la slide ciao 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 a tutti no faccio partire qua l'ambaradano intanto ciao a tutti mi sposto subito da qua perché mi hanno già sgridato prima perché non dovevo stare qua davanti allora io mi chiamo Rudy Bandiera sono di Ferrara sono un emiliano quindi se sentite delle z strane delle s delle l strane infilate durante durante il mio discorso è per quello allora sono un giornalista e un blogger anche se preferisco definirmi blogger da un certo punto di vista ho un'agenzia di comunicazione non convenzionale quindi di mestiere io uso i social network come diceva Dino con il quale mi trovo d'accordo con tutto credo e sia la prima volta in vita mia che mi trovo completamente d'accordo con tutto quello che hai detto io utilizzo utilizzo i nuovi media per fare comunicazione non convenzionale non convenzionale ci si riferisce appunto a quella alla comunicazione mainstream in questo momento incredibile mi sta suonando il telefono cioè non è suonato tutto il giorno mi sta suonando in questo momento qua questo qua deve essere credo sia la legge di Marfi no? qualcosa di questo tipo allora no sono io volevo essere attento volevi vedere se era acceso il telefono sarà mia madre che mi chiede come sto sicuramente allora io quello che voglio fare oggi è un percorso di un certo tipo è un percorso che passa dalle aziende dalle cinque aziende che stanno che stanno costruendo il nostro domani e che sono già il nostro presente che poi vedremo insieme non ce n'è nessuna italiana ve lo dico sono tutte americane non è colpa mia però sono le aziende che stanno di fatto costruendo il nostro futuro quindi passeremo per queste aziende per le tecnologie che hanno sviluppato e che stanno sviluppando quindi le 4, 5, 6, 8 tecnologie che diventeranno il nostro domani e voglio concludere con un passaggio molto più tradizionale e pagmatico cioè bene abbiamo visto Microsoft, Apple Google benissimo e adesso cosa faccio? ok quindi alla fine quello che cercheremo di capire è bene avendo visto questo percorso avendo visto questo passaggio che cosa posso fare io per me e per la mia azienda per rimanere in un mercato interconnesso e per rimanere in un mercato globale allora le aziende che stanno cambiando il futuro quali sono le aziende che stanno cambiando il nostro futuro e quali sono le tecnologie che stanno implementando per costruire il web 3.0 di domani allora bisogna fare una necessaria premessa voi sapete che si parla e tutti stiamo parlando costantemente di web 2.0 io sono convinto che se chiedo che cos'è il web 2.0 tutti diciate ah sì sì lo so e poi forse aspetta aspetta forse non lo so ve lo devo spiegare velocemente ve lo devo dire velocemente il web è nato e si è sviluppato fino agli anni 90 le dot com bolla speculativa è crollato tutto perché si pensava che il web fosse la panacea della vendita cioè io azienda vengo qua faccio un sito vendo tu compri fine della storia in realtà non era così abbiamo visto che poi è nato grazie ad una serie di veri innovatori e di imprenditori molto spregiudicati pensiamo per esempio a un certo Mark Zuckerberg che non so se avete presente o Google è nata una nuova serie di aziende che hanno davvero devastato il mercato precedente e cambiato il mondo ma davvero cambiato il mondo il mondo è cambiato di più negli ultimi 5 anni che nei precedenti 100 questo è un fatto non lo dico io e verosimilmente visto che il progresso è algoritmico nei prossimi 5 aumenterà si evolverà molto di più che nei precedenti nei precedenti 5 quindi il web 2.0 di fatto è stato è nato sulle macerie dell'1.0 ed è quel web partecipativo sono quell'insieme di tecnologie che hanno permesso la costruzione di siti come Wikipedia per capirci o dei social network che prima non esistevano quindi l'interazione tra gli individui crea un web che è formato dagli individui quindi l'individuo torna ad essere il centro comunicativo dell'umanità non è più l'azienda come diceva giustamente Dino è una faccia che vende vende molto di più un volto piuttosto che un logo in tutte queste 5 aziende delle quali voglio parlare ho messo il fatturato l'ho messo perché io non so qua prima qualcuno diceva che qua dentro c'è qualche milione di euro parlavano di te io ho 20 euro in tasca e nel propaganda non fattura 170 miliardi di dollari se il fatturato di Apple fosse un PIL si piasterebbe tra Marocco e Qatar sarebbe tra i primi 30 paesi al mondo con il più alto fatturato per capire quello di cui stiamo parlando il fatturato è un punto importante per capire quello che stanno facendo queste aziende 80 mila dipendenti quindi capite che è l'azienda con la più alta capitalizzazione del pianeta in assoluto l'innovazione legata alla personalità brillante del suo fondatore Steve Jobs perché è importante che cosa ha cambiato Steve Jobs ha cambiato il mondo è semplice nel 2007 è uscito l'iPhone lo sapete tutti voi direte sì ma le interfacce tattili le interfacce touch c'erano anche prima assolutamente sì ma si usavano con dei pennini noi abbiamo le dita non abbiamo dei pennini la genialità di Steve Jobs non è stato inventare un device è stato inventare un'interfaccia è stato inventare la modalità di utilizzo che ci ha permesso di prendere queste cose in mano e di sentirli nostri di sentirli una parte di noi subito dopo in un momento in cui si pensava che avesse dato tutto perché aveva inventato l'iPhone devastando il mercato Nokia che era la più grande azienda del mondo in ottica mobile è stata distrutta da questo punto di vista talmente distrutta che poi è stata comprata Microsoft quindi non ha fatto una bella fine da questo punto di vista subito dopo due anni dopo se non sbaglio addirittura non ha inventato un device ma ha inventato un mercato ha inventato l'iPad se ci pensate l'iPad che quando è uscito io mi ricordo la gente diceva è un telefonone oppure è un computerino in realtà è un mercato una nicchia che prima non c'era assolutamente i tablet sono stati c'erano anche prima ma sono stati sdoganati sono diventate la tecnologia per Apple ha reso la tecnologia qualcosa non da nerd non da sfigati è una cosa ficca avere l'iPad prima avere della roba che non era che era iper tecnologica era una roba da nerd e quindi un po' più da sfigati capitemi io non sono un neppoliano però mi rendo perfettamente conto di quella che è stata l'evoluzione di queste cose anzi peraltro io sono un ecosistema Google come persona quindi se mi sentisse il povero Jobs sarebbe anche un po' triste Microsoft Microsoft è definita probabilmente da molti il male assoluto perché comunque è talmente popolare i suoi computer sono scusate i suoi sistemi operativi sull'oltre 90% dei computer del mondo i PC ovviamente fatturato di 73 miliardi di dollari 130 mila dipendenti è un colosso straordinario Microsoft è un caso un po' particolare da questo punto di vista è stata vittima del proprio successo Microsoft è nata come azienda e ha cominciato a produrre software quando perché è stata probabilmente una delle prime o la prima Bill Gates è stato il primo a capire che il valore stava nel software non nel ferro il ferro sono in grado tutti di metterlo insieme IBM per prima IBM che è l'azienda più longeva tecnologica di tutti i tempi faceva server ma al software non ci aveva mai pensato così con attenzione come Microsoft fanno Windows esplodono fanno Office entrano in tutte le aziende del mondo cioè è l'azienda che forse è più capillare di tutte le altre aziende se ci pensate cioè tutti sapete cosa è Windows per molte persone Windows è il computer o Windows inteso come o il computer oppure ci sono anche quelli che dicono o Facebook come internet cioè siamo arrivati a questi livelli questa enorme enorme capillarizzazione però diventa un problema quando i sistemi su cui si usa internet l'informatica eccetera non sono più il PC oggi oltre il 50% degli accessi a Facebook avviene da mobile le ricerche su mobile si fanno sempre più più invadenti e invasive il mercato dei PC è in declino forse scomparirà come tipo di mercato i tablet sono sempre più invadenti sempre sullo stesso mercato di fatto Windows sta perdendo fette e fatturato quindi il problema per Microsoft è che cosa facciamo se ci pensate ha fatto una cosa Xbox Microsoft ha capito perfettamente che la guerra tecnologica si vince in salotto non si vince più negli uffici Xbox è una macchina multimediale che ti permette di giocare di navigare di comunicare di ascoltare la musica di vedere i film e ce l'hai in salotto se ce l'hai in salotto diventa una suite diventa la tua morbida comodità dalla quale non vuoi più uscire Microsoft sta investendo moltissimo in questo settore il Kinect quel gingillo che permette a te stesso di essere il controller del gioco che è una figata perché vi mettete davanti a un monitor e siete voi a controllare l'omino è stata una delle rivoluzioni portate da Microsoft questo ragazzi è il mio preferito questo non ha cambiato solo il nostro modo di vivere ha cambiato il nostro modo di pensare il nostro approccio agli altri il nostro approccio alla vita il nostro approccio all'amore all'etica al controllo a ogni cosa se ci pensate è oggettivamente così non sto dando giudizi morali sto dicendo che è così Facebook fattura 3,7 miliardi di dollari anche se sono comunque tutti i dati abbastanza evanescenti perché non sono molto trasparenti nel concedere dati un miliardo 300 milioni di utenti se fosse un paese sarebbe il terzo più popoloso del mondo dopo Cina e India l'algoritmo che governa il social più importante di sempre parlava giustamente Dino prima dell'algoritmo io ci voglio fare un passaggino veloce sull'algoritmo l'algoritmo si chiama Age Rank ed è un algoritmo relazionale dove è stata la genialità di Zuckerberg a parte fare una cosa che prima non c'era e renderla fruibile per tutti è stato questo algoritmo cioè è stata dare la possibilità a tutti di interfacciare con tutti e premiare le interazioni come giustamente diceva Dino prima che avvengono su Facebook ma non solo premiare la nostra costanza le nostre amicizie e premiare le persone che sono più presenti sulla piattaforma più presenti sulla piattaforma perché perché Facebook per fatturare questi miliardi deve far sì che noi si clicchi sull'adv sulle pubblicità che vedete di fianco Facebook guadagna da lì quindi l'unico l'unico pausa l'ecelentano l'unico punto a cui pensa costantemente Facebook l'unico punto di vista di Facebook di Zuckerberg è mantenere le persone sulla piattaforma per il guadagno poi ci sono l'open graph i protocolli tutte altre cose eccetera però voi dovete considerare l'importanza che ha per lui che voi siate sulla piattaforma poi dopo cerchiamo di guardare un po' meglio questo discorso Amazon o Amazon per dirla alla ferrarese fatturato 61 miliardi vedete sono cose veramente sconcertanti da un certo punto di vista 88 mila dipendenti il più grande negozio della storia il più grande servizio cloud e i più sconosciuti di sempre gli segreti dell'e-commerce allora Amazon da un certo punto di vista è stata l'unica insieme a Microsoft a sopravvivere alla morte e alla crisi delle dot com di fine del 90 prima del 2000 perché perché dà un servizio incredibile dà un servizio oggettivamente economico funzionale stabile sicuro io compro su Amazon e sono più sicuro che negozio quindi qua è la qualità del servizio ad essere tutto in più Amazon ha una caratteristica particolare che vi dico perché credo sia curiosa fornisce un servizio cloud incredibilmente sviluppato cioè moltissimi social network a livello planetario come Quora che probabilmente non tutti voi conoscono però esiste non me lo sto inventando ogni tanto mi invento delle parole ma questa non me la sono inventata gira completamente sotto anzi sopra ai server di Amazon quindi non dà solo dei servizi di vendita e di e-commerce ma dà anche uno dei servizi cloud più evoluti cloud virtualizzazione macchine virtuali appunto eccetera quindi Amazon a sua volta sta diversificando il proprio mercato per cercare di essere sempre più capillare non so se sapete la settimana scorsa se non sbaglio dieci giorni fa è uscito il telefono lo smartphone di Amazon cioè tutti se la stanno giocando anche sui device i device non servono a far guadagnare soldi servono a vincolare il cliente se io compro il Kindle di Amazon che mi costa 69 euro che tutti abbiamo 69 euro anzi se non sbaglio abbiamo 2-3 milioni qua quindi ce ne compriamo un sacco di Kindle se mi compro il Kindle sono legato a comprare su Amazon quindi io io Amazon produco un prodotto appunto tangibile fisico lo vendo sottostimandolo a sottoprezzo perché poi ti vincolo per sempre tutti lo stanno facendo se ci pensate Apple iCloud iTutto iTunes iTutto quanto lo fa per creare un ecosistema dentro il quale ognuno di noi si sente al sicuro e peraltro si sente anche più furbo degli altri perché se io ho Apple dico sì però te che sei c'hai Google non c'hai il bazze che c'ho io e se ho Google dico la stessa cosa sì però dai l'ecosistema Google è il più figo di tutti in realtà si equivalgono dal punto di vista tecnologico ma fanno sentire ognuno di noi più furbo di tutti gli altri queste qua si chiamano Religion War se voi scrivete diceva giustamente giustamente Dino Primas che ci vuole contemporaneità e prontezza sui social se voi in questo momento scrivete sulla vostra baccheca di Facebook ma meglio Apple o Android si scatena l'inferno in terra queste cose si chiamano Flame si chiamano Religion War e sono dovute appunto al fatto che le persone tendono ad avere ad avere la percezione di essere di aver fatto la scelta giusta nel momento in cui hanno comprato un device piuttosto che un altro device quindi se ho Android mi sento fico perché ho Android se ho Apple mi sento fico perché ho Apple se ho Blackberry non lo so questo è il top a parte il fatturato avete mai pensato a come guadagna questo coso 55 miliardi come li fattura li fattura con i vostri dati con i miei e con i dati di tutti li fattura principalmente ovviamente ci sono moltissimi rivoli in Google di entrata e vorrei vedere che così non fosse ma il principale il sistema definito AdWords che si chiama AdWords che molti di voi conosceranno in pratica io utente o azienda compro delle parole da Google le quali vengono quotate in un sistema di asta e mi vengono vendute ogni volta che qualcuno clicca su questa parola nel motore di ricerca Google prende dei soldi anzi ne prende un bel po' con questi soldi poi vabbè ci sono tutte le Google Apps for business che quindi sono tutte diciamo il retaggio per l'enterprise di quello che avviene per l'utente finale cioè le mappe ci sono sia per gli utenti finale che per le aziende Google ha tre satelliti geostazionari in giro sopra le nostre teste ha mappato il pianeta ha mappato il fondo del mare ha mappato le stelle sapete che ci sono tutte le app di Google che vi permettono appunto di vedere la mappatura Google Earth eccetera sa tutto di noi per tutto intendo tutto sa se usate Gmail sa con chi parlate di che cosa parlate quanto ne parlate sa con chi interagite quando interagite quanto interagite legge la vostra posta attraverso un sistema che viene definito di crawling non è un uomo che la legge è un sistema è un'intelligenza artificiale però Google è l'azienda che da un certo punto di vista sta innovando di più e lo sta facendo in maniera talmente efficace che non ce ne accorgiamo perché vengono definite tecnologie trasparenti trasparenti quando non ci accorgiamo delle enormi tecnologie che c'è dietro quando voi cercate auto su Google fate una prova vi escono qualcosa come due miliardi di risultati due miliardi ma come cazzo ho fatto a metterli in fila così in fretta in un secondo e mezzo voi provate a immaginare la tecnologia incredibile e straordinaria che c'è dietro questo colosso l'algoritmo che gestisce il motore di ricerca si chiama PageRank è l'algoritmo che fa sì che un risultato sia prima di un altro nelle SERP cioè search engine result page nelle pagine dei risultati di ricerca e tutta questa cosa si chiama SEO search engine optimization in realtà però è una piccola parte di quello che fa Google perché ripeto Google fa un sacco di servizi che vanno dalle mappe eccetera social network conoscete Google Plus quanti di voi lo usano? dieci tipo immaginavo è alto è alto la settimana scorsa ho presentato Google è l'unico evento italiano che c'è l'unico evento che Google fa in Italia per le aziende lo fa una volta all'anno c'erano 400 aziende tra le più grosse in Italia quindi aziende da mille persone in su la cosa curiosa è che tutte le nuove app tutte le nuove idee di Google passano per Google Plus io ve lo dico come informazione che potrebbe essere interessante per il vostro prossimo futuro Google non vede Google Plus come un social network vede Google Plus come un hub di servizi tutto passa da lì le mappe da places diventano Google for business diventano local su Google Plus eccetera comunque vado perché se no domani ragazzi cosa succederà allora domani ho voluto prendere alcune tecnologie alcuni pezzettini di realtà che sono già dietro le quinte che però arriveranno a breve il web semantico di cosa stiamo parlando stiamo parlando di un web in grado di interpretare vi faccio un esempio semplicissimo se io guardo un'immagine una foto sono in grado di capire se la foto è stata scattata in montagna al mare se le persone che ci sono sono bambini oppure sono adulti se sono vecchie se sono giovani se è giorno se è notte in quanto tempo un nanosecondo probabilmente giusto? provate a pensare a una macchina per fare una cosa di questo genere quante nozioni dovrebbe avere talmente tante che sarebbe impossibile ad oggi interpretarle il web semantico in ottica testuale ovviamente è un web attraverso il quale degli agenti semantici sono in grado di comunicare tra di loro e interpretare il testo e non ci siamo lontani sta già accadendo oggi Google con i nuovi aggiornamenti dell'algoritmo è già in grado di interpretare il testo quindi domani la stessa cosa scritta in due modi per i motori di ricerca avrà due sensi diversi questo è una cosa straordinaria pensate a tutti i software che so agli OCR che potrebbero essere evoluti in questa direzione web 3D second life e le tecnologie 3D adesso voi pensate che io sia matto perché vi faccio vedere gli occhialini si dai gli occhialini due mesi fa Facebook ha comprato un'azienda che si chiama Oculus per la cifra di 2 miliardi di dollari due mesi prima aveva comprato Whatsapp per 18 con 20 miliardi di dollari poteva comprare la Finlandia però probabilmente si divertono di più con Oculus questi qua sono occhiali per la realtà aumentata la realtà aumentata si dice che il 2014 sia l'anno zero della realtà aumentata una tecnologia della quale si parla da un sacco di tempo film di metà anni 90 come il tagliaerbe ne parlavano già in pratica attraverso questo tipo di tecnologia noi potremo essere ovunque in ogni momento molto semplicemente questi occhiali in particolare hanno la caratteristica di non avere lag cioè di non incasinare il nostro cervello perché se noi ci giriamo e i nostri occhi vedono qualcosa e i nostri occhi hanno un ritardo rispetto alla testa il nostro cervello si incasina e ci viene da vomitare non sto scherzando è esattamente quello che c'era su Wired del mese scorso attraverso queste tecnologie che sono implementate ad oggi per esempio da Facebook da domani il mondo dei social potrà essere completamente diverso perché potrà essere 3D e potrà essere in presenza tipo le conferenze che faceva Yoda in Star Wars una roba del genere chi è questo? sono stato il secondo fortunato in Italia a provare Google Glass ah non è George Clooney no vedi che ha il naso più storto ah giusto no in realtà ho passato una giornata incredibile perché me li hanno dati avevo una persona con me a proteggermi cazzo cioè non ho 22 milioni di euro in tasca realtà aumentata cosa significa? significa aggiungere delle informazioni digitali a quello che è il mondo reale e le aggiungiamo in questo caso attraverso un paio di occhiali come funziona? ve lo spiego in breve perché comunque anche questi qua hanno fatto un accordo con Luxottica non più di due mesi fa di conseguenza aspettateveli stamattina mentre prendevamo il caffè io e Dino abbiamo visto un ragazzo che gli indossava cioè non stiamo parlando di fantascienza attraverso quel prisma che vedete davanti agli occhi gli occhiali vi forniscono un hood una sorta di monitor dentro il quale possiamo fare scorrere quello che vogliamo oppure possiamo ricevere delle informazioni quindi possiamo attraverso un comando vocale far partire le mappe rispondere ai messaggi mandare mail aprire la rubrica guardare un film in macchina è perfetto possiamo fare tutto quello che vogliamo semplicemente toccandoli stanghetta touch o parlandogli a parte che è una cosa da deficiente io ve lo dico li ho portati per un giorno intero sono andato a visitare il Duomo di Milano perché ero a Milano e mi sentivo un cretino perché per abilitarli dovevo alzare la testa così quindi la gente che non lo sa mi vedeva che andavo in giro così poi dicevo get direction to google glass google glass e la gente mi dice questo qua è scemo perché ancora non lo sanno c'è un piccolo dettaglio simpatico siccome quando si attivano io posso dire take a picture per fare una foto se quello di fianco a me dice take a picture faccio una foto quindi se tutti portiamo il google glass li attiviamo tutti insieme è un casino però la realtà aumentata è oggettivamente qualcosa che sta per arrivare questo sistema si connette a un sistema android guardate come tutto torna qualche anno fa quando google ha comprato android io dico ma perché google ha comprato android che non fa telefoni cosa se ne fa di un sistema operativo cosa se ne fa se ne fa che invade il mercato lo prende tutto e poi fa i device che vanno con i sistemi android oggi android ad oggi android è il sistema operativo più usato al mondo quattro anni fa non lo conosceva nessuno web potenziato web 3.0 diceva giustamente Dino prima che la televisione non è prossima a morire sono perfettamente d'accordo ma sono anche consapevole che la televisione è prossima ad essere inglobata nessuno più ha voglia di accendere la tv e guardare quello che c'è tutti abbiamo sempre meno tempo abbiamo voglia di accendere la tv e guardare quello che vogliamo l'on demand l'on demand come può essere veicolato attraverso il satellite attraverso internet sapete che oggi tutti i ricevitori satellitari Sky per capirci si connettono a internet e ci danno la possibilità di scegliere tutti i film che vogliamo eccetera per non parlare del torrent e mule tutti i figli di Napster il Pertupir e tutte queste cose qua per non parlare di Spotify e tutti i sistemi di musica in streaming che esistono oggi in pratica questo che cosa sta avvenendo sta avvenendo che i giornali che sono in crisi la tv la radio la musica l'intrattenimento tutto passa per internet questo è quello che viene definito web potenziato cioè il web diventa il media non c'è più nient'altro poi il web è diversificato perché comunque i contenuti sono video, audio, musica eccetera ma è il media questo è quello che da un certo punto di vista viene anche denominato punto web 3.0 anche se web 3.0 non ha ancora di fatto una locuzione oggettiva se lo cercate su Wikipedia non c'è scritto che cos'è economia della reputazione l'avete già vista credo 100 volte quindi ve la faccio molto breve l'individuo è il centro del web potenziato di conseguenza è il centro del mondo la reputazione è come un momento di scambio tra persone e aziende abbiamo visto che siamo sempre noi al centro di tutto che il web potenziato è il media di conseguenza la reputazione diventa una moneta di scambio cosa vuol dire vi faccio un esempio pratico conoscete cloud sì sì ok tanto non mi aspettavo una risposta era solo un attimo per strasito due secondi cloud è un sistema reputazionale diciamo in pratica c'è un algoritmo che misura le persone con le quali io interagisco e quanto engage riesco a generare cioè se io scrivo una cosa e me la like incano in 100 ho un punteggio se io scrivo una cosa e me la like incano in 100 i quali vengono laicati 100 volte ho un punteggio più alto ok misura l'influence quanto siamo influenti perfetto un numero da 0 a 100 ovviamente è dozzinale e soprattutto un algoritmo di questo tipo è dozzinale perché non può essere altrimenti perché è troppo complesso ma il concetto è può essere sfruttato come una moneta di scambio sì non mi ricordo il nome della compagnia aerea statunitense forse Dino sì che fa dei pacchetti di viaggio in base al punteggio di cloud cioè tu hai un cloud sopra al 65 perfetto viaggi in prima anche se hai comprato il biglietto della seconda perché? perché si presume il fatto che se hai un cloud alto influencerai altre persone ad usare la mia compagnia la reputazione è sempre più importante e lo sarà sempre di più e la credibilità come si diceva prima giustamente è l'unico vero patrimonio che abbiamo quindi cosa facciamo? questa qui è la domanda bene abbiamo visto un sacco di cose facciamo questo facciamo un corporate blog e lo usiamo in sinergia con i social perché vi dico questo? perché se tutto questo si sta evolvendo in maniera iper veloce ed è vero dobbiamo trovare un modo per cavalcare questo cambiamento e anche questo è vero quindi da dove cominciamo? come azienda da dove cominciamo? cominciamo a comunicare comunicare verso l'esterno con un corporate blog che cos'è un corporate blog? un corporate blog è un blog all'interno del sito aziendale nel quale si parla del nostro settore di appartenenza questo non significa che si parli del nostro prodotto o del nostro servizio ma del nostro settore di appartenenza se io faccio software di mestiere apro un corporate blog in una directory o in un dominio di terzo livello del mio sito e parlo del mondo del software aumenterò accrescerò la mia credibilità giusto? perché la gente che attraverso i motori di ricerca arriverà lì arriverà lì perché sarà oggettivamente interessata e quindi io diventerò credibile avrò dei contenuti da divulgare sui social network i social network diventeranno il mio veicolo principale e tutto questo ripeto attraverso i contenuti oggi credo che si sia detto almeno dieci volte che il contenuto è la cosa più importante anzi ho anche letto che è come il maiale non si butta via niente il contenuto è re si dice è la cosa più importante che possiamo avere ed è l'unica cosa che possiamo fare bene ma se io ho un blog e utilizzo i social che cosa posso come posso muovermi in queste direzioni? io ho scritto cinque teoremi ragazzi queste qua sono la mia grande fierezza ho fatto tre quattro cose belle solo in vita mia questa è una questa qua è bellissima i cinque teoremi sono stati scritti in base alla mia esperienza io ho 41 anni ho vissuto la metà della mia vita offline e l'altra metà della mia vita online preferisco la parte online tra l'altro ci sono più donne è importantissimo capire come muoversi in quest'ambito il primo teorema il più importante di tutte di tutti se ogni cinque cose se ogni cinque cose che scriviamo quattro riusciamo ad alleggerirle nei toni o riusciamo a renderle addirittura frivole avremo l'attenzione su di noi anche quando vogliamo colpire nel segno ogni cinque cose che dici fa che quattro siano divertenti ve le spiego in una parola perché la gente sta su facebook non le aziende la gente per cazzeggiare se noi siamo monodirezionali pallosi troppo verticali noiosi non attireremo l'attenzione di nessuno queste persone come pagina aziendale come qualunque tipo di contenuto eccetera dobbiamo essere o utili o interessanti o divertenti dobbiamo per forza di cose e poi in mezzo a questo dobbiamo anche vendere questo è assolutamente vero ma come diceva Dino prima il mondo dei social il mondo dei contenuti è un mondo fatto di dialogo non possiamo andare su facebook stendere il nostro panno e far vedere i nostri prodotti perché non le caga nessuno questa è la realtà secondo teorema più i seguito più i detrattori quando state sui social questa è una cosa molto importante è una sioma che prescende da quello che scrive quelle conoscenze autorità che all'aumentare della popolarità aumentano invidia critiche e pensieri discordanti dal tuo è normale fisiologico è giusto io lo controduco in una parola in rete c'è pieno di rompi coglioni è importante questo perché utilizzare i social implica una freddezza straordinaria noi dobbiamo pensare contare sempre fino a 10 prima di dare qualunque risposta perché troveremo sempre dei detrattori e all'aumentare della nostra popolarità abbiamo visto prima il caso del calcio aumenteranno esponenzialmente anche i detrattori quindi lo sappiamo lo mettiamo in gioco e siamo sempre freddi e pronti a reagire il terzo attenzione questo qua per le aziende è forse il più importante qualunque tipo di promozione basata su eventi che fondano la real life con la digital è il modello dell'advertising di domani la fusione digital e real è la pubblicità del futuro non cliccheremo su dei banner e dei link per sempre vi faccio un esempio semplicissimo l'anno scorso a Cesenatico un consorzio di alberghi Cesenatico Bella Vita l'hashtag ha chiamato una trentina tra i blogger più famosi d'Italia a passare un weekend a Cesenatico spesati completamente dal consorzio se metti trenta blogger insieme peraltro con le famiglie con i bambini quindi è stato sdoganato anche lì l'aspetto nerd e gli dai da bere questi qua postano e fotografano e fanno di tutto per due giorni ve lo assicuro quindi spesati albergo cena discoteca hanno avuto un reach di qualcosa come 40 milioni di visualizzazioni potenziali sui social network l'hashtag semplicemente dando un servizio che è stato a costo zero per le aziende e per gli operatori questo cosa significa che come si diceva prima non esiste più una separazione tra digitale e reale sono due facce della stessa medaglia sono fuse e bisogna mantenere viva l'attenzione in un mondo in riferimento all'altro e nell'altro in riferimento a quest'altro gli eventi sono una figata questa è la traduzione l'efficacia di un'azione dipende sempre dalla fatica richiede la stessa più fai fatica più quello che fai è efficace quando ti chiedi meglio questo o meglio questo sappi che è sempre meglio quello più faticoso questo l'ho scritto perché così evito tutti quelli che mi dicono ma è meglio se faccio così o quello se faccio così fai quello che fai più fatica sicuramente quello più efficace i contenuti dicevamo contenuti scrivi tanto scrivi bene scrivi spesso è faticoso quindi efficace se scrivi poco copi eccetera non è faticoso quindi efficace questo vale per tutto questa sui social la devi avere tutti i giorni se più ce l'hai più hai interazione più hai interazione più devi perdere tempo a rispondere sì ma è efficace questo ho voluto con forza mettere questa slide perché è bellissima l'ironia sui social media spesso non viene percepita se scrivi qualcosa di ironico preparati ad essere nel centro del mirino di chi non ti conosce bene online non ci sono sorrisi amicamente in quello che scrivi c'è quello che gli altri capiscono l'ho messa come una sorta di teorema dogmatico se io dico qualcosa voi adesso stringo l'occhio probabilmente capite che sto scherzando se invece dico qualcosa online e non metto l'occhiolino e non faccio facce oppure se le persone non conoscono il mio progresso non conoscono la mia storia non sanno chi sono non sanno come mi comporto diranno questo è scemo ok quindi bisogna sempre fare attenzione ho detto un paio di parolacce ho visto adesso che sei la piccola scusami mi era sfuggita completamente dobbiamo sempre fare attenzione a come veniamo percepiti quindi bisogna avere sì personalità cercare di essere più simpatici possibili ma bisogna anche fare attenzione a quello che si dice per non turbare o per non uscire dal seminato di ironia e andare in quello del cattivo gusto il sito blog ti farà guadagnare direttamente abbiamo visto che ok facciamo un sito scriviamo dei contenuti un corporate blog parliamo del nostro settore utilizziamo i social evviva guadagno probabilmente no guadagnare direttamente non vuol dire guadagnare cioè non vuol dire che la gente che arriva sul sito vi dà i soldi vuol dire che creerete una credibilità farete un'attività che viene definita di branding utilizzando delle call to action cioè delle chiamate forti sui vostri post sul blog avete la possibilità di far fare all'utente quello che voi volete e allora lì sarà guadagno ma ricordatevi che un corporate blog non fa guadagnare direttamente ma genera la vostra identità grazie a tutti rimani rimani domande no in realtà sono tre la prima è ho provato a fare l'esperimento mettendo preferisci iOS o Android e la prima è stata Windows Phone esatto il secondo teorema esatto Windows Phone va bene no l'altra domanda era ho visto la conferenza di Google una parza ma l'Io di Google dell'altro giorno e ho visto che in qualche modo sta tentando di entrare ovunque Google Wear vuole entrare nei nostri indumenti orologi TV vuole entrare nella TV poi Auto vuole entrare nelle automobili quindi mi sembra che si sia un pochettino arrivando a quella Internet of Things perlomeno attraverso il sistema operativo che non è ancora arrivato ma ne parliamo credo da 15 anni non so una roba del genere come la pensi quando arriverà e che cosa succederà quando ci sarà questa cosa dopo ti faccio l'altro non ho messo l'Internet delle cose in queste slide perché era un pochino troppo complesso da diciamo da sciogliere come come argomento però io credo fortemente che ci sia un problema grosso per la realizzazione di questo sogno tra virgolette che è il problema dei protocolli cioè abbiamo un sacco di macchine che potrebbero in teoria parlare tra di loro ma se parlano in lingue diverse non si capiscono i protocolli sono un problema visto che non esistono authority sovranazionali che decidono come le macchine devono parlare bla 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 il problema è che non si parlano ci sono però oggi realtà talmente grandi imponenti come Google che sono in grado di creare i protocolli e quindi di fare comunicare tra di loro le macchine qui nasce un altro problema quello che viene chiamato distopia ucraina cioè quando questo gingillo ha tutto e fa comunicare tutto i ragazzi un attimino di timore ce l'avrei adesso Google ha dei buoni ma non sappiamo domani cioè io non voglio mettere paura però sto semplicemente dicendo che ai miei corsi alle mie lezioni università scuola eccetera dico provate a usare Bing non perché vada bene non perché gli voglia bene ma perché sono convinto che il monopolista non vada bene da nessuna parte mi stai dicendo che sarebbe un team Berners-Lee moderno che inventa il protocollo IP per le macchine sì sarebbe bellissimo però non so quanto tempo ci metterebbe svilupparsi cioè è più semplice per me che sia Google attraverso Android che protocolla tutto che fa da collante è molto più cioè Linux perché non ha successo non ha successo perché sono tutte le distro diverse perché è un macello per l'utente Google mette d'accordo tutti ok l'altra domanda invece un po' più specifica ed è praticamente se sai dice qualcosa su Mechanical Tark che è quella cosa di Amazon un po' particolare perché utilizzo le tecnologie della rete però le utilizzo in una maniera un po' strampalata nel senso che mette al lavoro gli umani per fare dei compiti che sono forse ripetitivi ma che la macchina non riuscirebbe a fare e li paga un niente però magari li paga alla fine tanto perché fanno tanto lavoro guarda questa qui esulo un pochino dal mio sì però è interessante va un pochino più nel campo del sindacato diciamo Amazon è molto controversa da questo punto di vista o lo sono un po' tutte Shenzhen è una una fabbrica con oltre 100.000 operai dove fanno gli iPhone dove si buttavano giù dall'ultimo piano si ammazzavano gli operai perché lavoravano come dei cani sbroccavano invece di calare le ore di lavoro non sto scherzando hanno messo le reti dai tetti quindi è tutto un mondo controverso non so francamente ho fatto tutto questo giro affascinante perché non so che cosa dirti ancora domande diamo la presenza al giovanissimo ha preso appunti come non vedevo dagli anni dell'università perfetto mi riallaccio un po' al commento che ha fatto prima alla prima domanda posta dal signore immagino che qua tutti abbiamo letto 1984 di Orwell ecco possiamo un po' immaginare Google come un prossimo grande fratello immagino che lei conosca più o meno il cypherpunk come idee in generale cifra ho letto tutto ah perfetto questo mi conforta lei auspica o pensa che comunque ci sarà una specie di rivolta delle macchine chiedimi questo non delle macchine proprio degli utenti che finalmente si metteranno a cifrare i propri dati e si metteranno a usare i sistemi che oggi sono magari Diaspora DuckDuckGo eccetera lei pensa che prima o poi ci sarà o continueranno a fare gli asini e quindi continueranno a dare impunemente i propri dati guarda hai fatto una domanda che purtroppo non abbiamo 16 ore però cerco di essere breve allora DuckDuckGo non lo usa nessuno perché fa schifo detto questo detto questo Diaspora eccetera sono cose molto intelligenti quelle che hai detto assolutamente il problema c'è un solo problema che è la consapevolezza le persone non sanno che quando mettono una foto su Facebook di Facebook le persone non hanno la consapevolezza delle policy non hanno la consapevolezza di quello di cui stiamo parlando noi in questo momento io credo che manchi fortemente una cultura digitale evoluta specie in Italia nel momento in cui noi creeremo una base di conoscenza creeremo un mercato consapevole e creeremo delle persone in grado di dire questa policy non mi piace l'accetto ma non mi piace quindi ne scrivo un post quindi lo scrivo sugli altri social e questo genererà a sua volta un effetto a catena che farà cambiare la policy io credo che l'unica cosa che si può fare oggi l'unica è essere consapevoli quindi queste giornate servono anche a questa cosa qua Luciano cosa tu hai detto bisogna stare allerta non so se l'hai fatto volutamente oppure è stata una dimenticanza se non si è di Google il servizio che arriverà sarà il servizio internet ultra veloce fatto attraverso 120.000 droni che volano a 20.000 metri questo che cosa vuol dire vuol dire che tutto il pianeta avrà una connessione ultra veloce dove potrà scambiare tutto quello i vari multimedia insomma tutto quello che c'è da dire da fare si farà attraverso questo sistema questo che cosa genera secondo te genera più fiducia più paura o che cosa siamo tutti intimoriti da quello che sta accadendo ed è ragionevole io però non ho paura non voglio aver paura perché penso ripeto che la consapevolezza quello che stiamo facendo in questo momento sia la base che ci serve a non aver paura detto questo questa domanda io l'ho fatta ai dirigenti di Google Italia che sono rimasti un po' così infatti non mi chiameranno mai più a presentare un Go in Google e loro mi hanno detto Project Loon che sono non sono droni ma sono palloni aerostatici che poi cableranno ah ok un'altra cosa perfetto perfetto non importa il principio è quello loro dicono noi diamo la connettività noi diamo la connettività e quindi azzeriamo il digital divide tutti voi dite che il digital divide è un problema quindi noi siamo i buoni se aumentiamo la connettività e vi diamo connettività ultraveloce cosa volete di più dopo è chiaro che userete i miei servizi perché sono i migliori però è sempre un dualismo di questo tipo ripeto consapevoli attenti però usiamole queste cose una piccola replica che io preferisco quel sistema lì perché secondo me è controllabile personalmente proprio social network perché a social network tu crei quella condivisione di cui si parlava anche prima e quindi impedisci che le notizie siano nascoste che gli eventi siano soltanto ad appannaggio di alcuni e non di altri e questo sì io diciamo che preferisco è controverso sì certo che è controverso però preferisco quel sistema al sistema attuale che io ancora viaggia a un mega di velocità in Sardegna vi faccio un esempio brevissimo in Ucraina vi ricordate ecco perché parlavo di sto più Ucraina vi ricordate quando ci sono stati i casini in piazza Maiden Maiden non so bene come si dica che cosa è successo questo è stato riportato dal Washington Post ed è scritto nel mio libro rischi e opportunità del web 3.0 che tutti comprerete è successo che a tutti i disturbatori tra virgolette che erano in piazza Maiden non mi ricordo in quale data è arrivato un sms con scritto caro utente sei stato segnalato tra i disturbatori all'ora bla 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 del giorno bla 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 le compagnie telefoniche ucraine hanno detto ma noi non abbiamo mandato niente a nessuno questo cosa significa significa che il governo centrale in quel momento ha preso possesso della tecnologia di conseguenza tutto quello che si diceva la primavera araba partita da internet eccetera è l'esatto opposto ha preso possesso della tecnologia e ha tracciato tutti quelli che c'erano lì quindi ripeto c'è tutto e il contrario di tutto grazie Dino e Dino Rudi probabilmente c'erano anche altre domande ma siamo arrivati in coda di orario grazie a Pano Sirigaglia di Kelion che ci ha aiutato per questa sessione grazie Rudi grazie Dino e ci vediamo alle due e un quarto con Gianluca Dettori per proseguire buona pausa grazie a tutti